Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità, oggi, Santo Stefano, normale servizio festivo. Sulla rete capitolina del trasporto pubblico, inoltre, sono in strada le linee di bus gratuite Free 1 e Free 2, che raggiungono la zona di Via del Corso, partendo da Termini e dalla stazione Ostiense. E c'è anche la linea 100, sempre gratuita, in strada tra Porta Pinciana, il Centro e Prati. Le ZTL diurne di Centro e Tridente sono in funzione sino alle 20. Via dei Fori Imperiali oggi è isola pedonale, deviazione per le linee di bus 51, 75, 85, 87 e 118. Grazie a tutti.